L'amministrazione comunale di Arco e la Commissione Consiliare per le Questioni Energetiche propongono nuovamente lo sportello Energia, dopo la positiva esperienza di poco più di un anno fa. Un servizio gratuito a disposizione dei cittadini per ottenere il parere personalizzato di un tecnico esperto del settore e ricevere indicazioni sui possibili interventi in tema di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili da realizzare nelle proprie abitazioni, su varie forme di incentivo e finanziamento e sui tempi di rientro dei costi da sostenere.